Basta una sacca per salvare una vita. Con questo slogan, l'Avis comunale di Foggia inaugura ufficialmente la campagna donazioni per l'estate 2019. La metafora è quella della sacchetta di plastica che tiene in vita un pesciolino rosso e della sacca che contiene sangue di un donatore, con la quale si può tenere in vita un paziente che abbia avuto bisogno di una trasfusione. Foggia è una città da primato positivo per quel che riguarda le donazioni di sangue, ma il fabbisogno è sempre alto, soprattutto con l'estate alle porte e con l'aumento indiscriminato degli incidenti stradali, che purtroppo sta facendo registrare tante vittime. E a proposito di vittime, il presidente dell'Avis comunale di Foggia, Alessandro Giallella, è tornato sul caso di Francesco Ginese, il ragazzo morto a Roma mentre stava scavalcando un cancello per entrare ad una festa universitaria. Oltre ad unirci al dolore della famiglia di Francesco per la perdita del figlio, volevo precisare che la donazione non è ad personam, quando ci richiamo al centro trasfusionale la nostra donazione è anonima, non sappiamo a chi va, sono i dottori a deciderlo. Come Francesco purtroppo ci sono tanti ragazzi, anche non ragazzi, che hanno bisogno di sangue in questo periodo. La mobilitazione di ieri è stata eccezionale, il centro trasfusionale a Roma ha mandato indietro delle persone. cerchiamo di garantire ogni giorno questo tipo di autosufficienza in modo da non creare allarmismi e di garantire gli interventi di routine quotidiane. Le leggi regionali prevedono specifiche particolari per lo scambio di sangue. Per tale motivo non è possibile organizzare raccolte mirate.